Per osservazione intendiamo l'indagine qualitativa circa le modalità di apprendimento dell'alunno sulla base di quanto è emerso durante il primo colloquio conoscitivo con la famiglia. Strutturiamo quattro incontri della durata di un'ora ciascuno nell'arco di due o tre settimane. Possiamo utilizzare libri di testo dell'alunno oppure attività acquisitamente strutturate che sono costruite per valutare il suo approccio allo studio, i suoi punti di forza e di debolezza a livello di performance, la sua motivazione e il suo senso di autoefficacia in ambito scolastico. Il percorso di osservazione è importante per definire quale intervento proporre alla famiglia in termini di modalità e di obiettivi a breve e lungo termine.